esonerato mazzarri esonerato mazzarri praticamente deciso da de laurentis prima della partita col barcellona non dopo non in un altro momento al suo posto calzona ex vice tisarri sia all'empoli che al napoli e vice di spalletti nel primo anno di spalletti al napoli e anche vice di zenga al cagliari nel frattempo tra napoli e napoli e adesso attuale commissario tecnico della slovacchia che ha già dato l'ok la federazione per il doppio incarico di qui a giugno calzona sarà affiancato da amsic che oltre ad essere una leggenda del calcio slovacco è anche una leggenda del calcio del napoli ma è una decisione davvero clamorosa sulla quale è bene fare delle riflessioni mazzarri è piaciuto inizialmente più che altro come persona come ricordi anche alla piazza napoletana ma non ha mai entusiasmato e poi sta piacendo sempre meno con il gioco e con i risultati che sicuramente non sono soddisfacenti e non hanno segnato nessuna svolta rispetto alla gestione di rudy garcia ma se de laurentis decide di posticipare l'esonero di rudy garcia da ottobre a novembre prendendo mazzarri come amico di famiglia che traghetta la squadra con benevolenza e disponibilità fino a giugno ma mettendolo nelle peggiori condizioni per iniziare dopo non lo può cacciare così dopo se lo tiene anche perché che significa togliere mazzarri per togliere alibi ai giocatori e dare una scossa alla squadra questa squadra è passata dall'essere allenata in maniera ottima per due stagioni o quantomeno la stagione scorsa chi è stato acquistato nell'estate 2022 all'essere allenata da rudy garcia adesso mazzarri terzo cambio in panchina ma cos'è la salernitana con tutto il rispetto e sapendo bene che i tifosi del napoli non sono molto amici dei tifosi della salernitana squadra campione d'italia cambia tre allenatori nella stagione successiva tre per ora perché bisogna vedere poi se calzona resterà fino a giugno e soddisferà de laurentis il quale nelle ultime dichiarazioni nella famosa conferenza stampa lunghissima aveva per l'ennesima volta rievocato il fatto che spalletti lo ha ingannato perché aveva detto che sarebbe rimasto fermo a coltivare la terra e poi guarda un po se ne va mancini e lui accetta la panchina della nazionale e invece di dire ma vai luciano figurati la nazionale la nazionale capisco che volevi star fermo ma non si può dire di no fa dietrologia de laurentis dicendo forse gravina l'aveva contattato prima per farlo andare via dal napoli come se poi mancini fosse stato cacciato e non se ne fosse andato lui perché mancini si forse aveva già un accordo con la federazione dell'arabia saudita e giustamente gravina presidente figici si è risentito per questa esternazione di de laurentis per il quale è sempre colpa di qualcun altro il problema non è se spalletti poi è andato o non è andato in nazionale ma è perché ha deciso di andarsene dal napoli e che ha fatto de laurentis nei mesi precedenti e questo gli è stato chiesto in conferenza stampa all'addio di spalletti addio che era assolutamente percepibile rispetto a questo ha detto soltanto de laurentis che c'era nel contratto la clausola di prolungamento e quindi lui non ha vagliato altra ipotesi come se appunto fosse de laurentis e la società sportiva calcio napoli padroni del futuro del presente e delle decisioni anche personali di luciano spalletti una cosa impensabile disastro su disastro su disastro una stagione che finita prima di cominciare l'obiettivo quarto posto è raggiungibile aritmeticamente ma è ancora qualcosa di molto difficile perché siamo alla seconda sterzata nel corso della stessa stagione ma a questo punto saremo impopolari nel pensare che forse era meglio tenersi rudy garcia ma forse era meglio tenerselo visto che con mazzari non c'è stato questo grosso miglioramento e si deve cambiare un'altra volta allenatore quantomeno per dare continuità di rendimento continuità di allenamento ai giocatori perché altrimenti si perde qualunque cosa si possa essere costruita nel breve tempo di un'esperienza da allenatore del napoli i tifosi magari saranno sollevati per l'esonero di mazzarri e fanno anche bene a pensarla in positivo in questo momento ad avere fiducia e a credere nel lavoro di calzona che potrà essere migliore ma resta il fatto che non è così che si risolvono i problemi anzi così se ne creano degli altri e se un presidente può esonerare quanti allenatori vuole non c'è un allenatore che può esonerare un presidente ma forse c'è una tifoseria che a un certo punto può dire grazie aurelio ma basta così grazie a tutti